Ciao insieme! Noi vi metto il canale! Ho già un bacone e vado a bubo il nuovo papillo adesso! Un casto? Sì sì! Wow! Che cos'è? Una bambola! E che bambola è? La bambola che volevo e desideravo. Adesso lo facciamo a cattare mamma! Wow! Come sapere cattare? Allora adesso la apriamo e vediamo com'è questa bambolina! Che dici? Sìììììì! ecco qua abbiamo scartato la nostra bambolina questa bambolina facciamola vedere il bambino eccola qua con questo suo bellissimo cavallo appartengono alla collezione abbiamo detto eccolo qua delle lotti green day farm stubble questa qui infatti è una bambolina la fantina con questo suo bellissimo cavallo vero farà si facciamo vedere la bambolina c'è un attimo i suoi stivali il suo uso il giacchetto è veramente 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 ben fatta anche questa carinissima gravattina il cappellino in velluto e cavallo e questo cavallo veramente stupendo vogliamo far vedere questo cavallino con me mamma è veramente rifinito queste le taglie della sella la copertura questa bellissima chioma c'è veramente veramente tutto questa dolce bambolina guardiamo qui si chiama olivia e il suo cavallo il suo amico si chiama se ven si appartengono alla collezione delle lotti e potete trovare tutte le informazioni su olivia ma anche altre bamboline della collezione all'interno del sito ufficiale www.lotti.com naturalmente anche questa volta come sempre mettiamo tutto giù in descrizione così che potete trovare con un rapido link le informazioni su questa questa bambolina dolcissima il suo cavallo ma anche sulle altre che ce ne sono davvero tantissime una più bella dell'altra noi adesso vi lasciamo che sarebbe impaziente che vuole giocare vero quindi da olivia da seven da sarah e la mamma e tutto ci vediamo al prossimo video ciao 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 adesso c'è un attore vedere l'attoria si allora di nuovo prima di avervi vedere un po' che cosa possono capire qua Oh, vediamo la punta parte che c'è qua sotto. Trano, qua sotto c'è una caverna. Provo che a guardare. Oh, oh! Oh, sì! Non ci sono costruita. Oh! Un pespa! Ma adesso il cavallo si ritorna. Ma il cavallo non c'è. E' peccato. Non posso tornare da non ripropare quel cavallo. C'è un po' dove? Se non lo accetta in alto freddo. Meglio tornare così. E' usare il cavo accanto. Capocco subito. non posso ancora avacare non posso tornare al campo non posso ancora avacare non posso ancora avacare mi carina ragazzi adesso devo giocare ciao ciao